Buonasera, buonasera, benvenuti a questo nuovo programma che come avete visto dalla sigla si intitola gli sdraiati e ha proprio come late motive il fatto che la persona intervistata sarà sdraiata per tutto il tempo. Questa sera debutta in trasmissione con noi Davide Boni, buonasera, che come vedete è già sdraiato, sei comodo? Sì, sì, ci sono anche dei cuscini, allora non ti addormentare, gli abbiamo dato un buon caffè, allora in cosa consiste questo programma intervisteremo personaggi della politica, dello spettacolo, dello sport e ripeto la caratteristica sarà sempre quella di stare sdraiati sul divano girandosi usando i cuscini, poi dopo ti farò fare di tutto. Va bene. E dopo in conclusione al termine di queste interviste sdraiate andranno in onda invece delle interviste sedute effettuate da Don Roberto Ponti nella sua rubrica Testa e Cuore. Quindi grande serata di interviste, quella del martedì su Telenova. Allora, Davide Boni, qual è il tuo soprannome? Cioè hai un soprannome qualcuno? Ogni tanto, Duca, Duca, ma questo... Duca? Sì, perché... Un titolo nobiliare? Sì, ma perché ai tempi, quando ero molto giovane e avendo vinto le elezioni a Mantua uscì un articolo dicendo il Duca di Mantua, Duca di Sabioneta, perché ero il primo, tra virgolette, che saliva al soglio della sede provinciale. E quindi un bel soprannome. Sì, ma non lo usano in tanto. Quanti anni hai? Io 59, appena compiuto. Eh, li porti bene, questa è una buona cosa. Ci proviamo. La professione, perché Davide Boni è stato in politica tanto tempo, ma adesso non vivi più di politica. No, adesso sono un libero professionista, mi occupo di sicurezza sul lavoro, 81-08, per cui sono un libero imprenditore. Un libero imprenditore, che però hai ancora la passione della politica, perché intervieni spesso da noi anche su temi politici. Non cessa mai, mi diverte. Stai rilassato? Ma io sono rilassato. Ebbè, il problema è che se mi rilasso troppo, alla prossima domanda, perché io dove mi stendo mi addormento. Questa domanda magari ti farà rilassare, perché ti ho chiesto cosa fai adesso, ma da bambino che lavoro volevi fare? Guarda, se lo dico, io avevo questa grandissima passione per fare il militare. Io volevo fare il militare, l'uniforme, tutta quella cosa. Così? Sì, brava. Ecco, la lì era la cosa, ma tant'è che ho rischiato durante il mio periodo di leva, perché la mia età mi porta a aver fatto il servizio di leva, di averci pensato. A fare la carriera militare. E in che corpo saresti voluto andare? Allora, io ero un granatiero di Sardegna, questo era dovuto evidentemente all'altezza, non tanto, ma nell'esercito una cosa di questa gente. E poi come mai hai cambiato idea? Ma perché c'era bisogno di lavorare a casa. Servivano i soldi? Servivano i danè? Brava, il grano, come si dice, per cui non era possibile. Stai anche ancora un po' più sdraiato. Ecco, bravo, così si rilassa di più. Mi piace di più così. Ecco, da sdraiatissimo puoi dirci qual è il tuo punto debole, perché noi vogliamo sapere le tue caratteristiche più intime, no? Qual è il tuo punto debole? Se si può dire. No, beh, io faccio fatica a dire di no. Ah, fai fatica a dire di no. Faccio fatica a dire di no. E questa qui è una fregatura, perché poi magari anche quando vorresti dire, faccio fatica anzi. Cioè dici di sì a tutti? Bravissima. Dovrei essere un po' più capace a dire no. Ma a solo agli amici e familiari o a tutti quanti? Un po' a tutti. Quindi quando ti ho chiesto di venire a fare questa intervista mi hai detto di sì. No, tu sei simpatica. La trasmissione era interessante, perché poi io sono curioso. Mi piace la rete, tutt'ora sono sempre stato bene qui, per cui devo dirti che questa cosa mi ha stuzzicato. Ok. Magari dovrei dire qualche no in più. Ah, ok. Senti, se tu vincessi, adesso è il periodo di lotteria, no? Natale, lotteria di Capodanno. Se vincessi dieci milioni di euro, qual è la prima cosa che vorresti comprare o che vorresti regalare? Non so, dieci milioni di euro sono tanti, eh? Vabbè, guarda, se io vincessi dieci milioni di euro, facciamo così, una milionata la diamo a mia figlia più grande. Ah, te ne restano nove. Ecco, un paio di milioni li diamo... Non darei al figlio piccolo, se non la figlia grande poi è gelosa? No, 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 li diamo a mio padre che abita ancora nelle lande desolate sabionetane e al resto farei un'avventura. Io penso che la mia famiglia mi trasferirei. Ah, ti trasferirei? Dove? Cuba. Ah, Cuba, allora poi parliamo anche dei posti. Senti, qual è stato il giorno più bello della tua vita? Però dimmi una cosa originale. Allora, il giorno più bello della mia vita è che mi ha commossa di più, così togliamo la tua... Quando sono stato eletto consigliere regionale, la prima volta. Oh, ma fantastico, perché tutti dicono quando è nato il mio bambino, quando mi sono sposato, e invece tu è una cosa di lavoro, bello. Sì, perché ho telefonato... Quando sei stato eletto consigliere regionale. Nel 2000 che ho telefonato a mio padre... Questo ti fa rilassare ancora di più. Mia madre e mio padre, eccolo lì, e fra un po' vado fuori, e mia madre si è messa a piangere... Dalla gioia anche lei. Sì, era l'adrenalina della notte insonne, no? E allora lei, poi lei era milanese vera, per cui sentirmi eletto su Milano era stata una cosa... Cioè, era fiera per me. E quindi è stato il giorno... Bellissimo questa risposta, però adesso ancora più rilassato, mi devi dire il giorno più brutto. Beh, il giorno più brutto... Eh, io lo so, però diciamolo, io lo so, ma diciamolo. La guardia di finanza è venuta negli uffici regionali che mi hanno detto questa è una visigaranzia e lì si è scatenato il tanto... È stato un segno, come ti posso dire? Beh, è iniziato un periodo brutto, tutto brutto. Che però ha portato a altre cose. Adesso sono fortemente soddisfatto della mia vita. Ah, questa è una cosa bella. Cioè, mi piace, poi quando mi racconta le cose, però non sono qua uno a dire, oh, domani mattina devo essere eletto da qualche parte perché voglio tornare a fare quella cosa lì. Però quel giorno lì e te lo ricordi sicuramente come... Perché tu non ti aspettavi una cosa del genere o ce l'avevi nell'aria, qualcuno ti aveva... No, 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 era lontanissimo da me. Ti devo dire che io mi sono vergognato di me e anche lì, in quel caso lì, allora mia madre non c'era più, la prima telefonata è stata mio padre. A tuo papà. Passiamo a cose belle. Che cosa adesso ti rende felice? Tu mi hai detto che eri felice quando sei stato eletto consigliere regionale, ma oggi a 59, hai detto? 59 anni. Che cosa ti rende felice? Ma guarda, mi rende felice il fatto... Qui vado un po' più nel banale. Mio figlio ha iniziato la statale, fa storia, che è una cosa che a me piace tantissimo, e lo vedo soddisfatto di quello che fa e quando viene a casa racconta alla famiglia la lezione che ha avuto. E tu se ti rende felice? Sì, perché mi racconta delle cose che mi piace sentirle e poi vedo la sua soddisfazione e la soddisfazione di sua madre. È una facoltà difficile. Ma io non ho dubbi, però... Buona fortuna al figlio di Davide Boni. Come si chiama tuo figlio? Si chiama Giorgio Amedeo. Ciao Giorgio Amedeo, in bocca al lupo. Io ho fatto filosofia, quindi ne so qualcosa. Andiamo avanti, andiamo torniamo indietro. In questo programma ci piace fare avanti e indietro, così tu ti rilassi. Qua non è che crolla il cuscino, eh. Teniamolo bene. Come copertina, come gli anziani. No, vabbè, no, adesso non cominciamo, sarà qua. Io poi il problema è che... Vai. Ecco. Quando eri ragazzino avevi un poster nella tua cameretta? Io ho la fregatura di essere nato milanista, per cui ero un poster milanista. Una fregatura? Beh, adesso siete primi in classifica. Sì, sì, ma non avevo... Cioè, allora che io mi ricordi, cioè mettere altre cose diventava un po' difficile. Non c'era questo... Per cui c'era... Io avevo il milan. Avevo il milan e avevo... Questo milan qua? Eh sì. Eh sì. Eh sì, gli anni sono quelli. E quindi avevi il poster? Avevi anche... Facevi anche la collezione delle figurine? Quella un po' meno. Quella un po' meno. Ecco, facevo la collezione dei soldatini, ecco a me piacevano tantissimo, da lì poi il militare, tutte quelle cose lì. Avevo quella cosa lì. Ma avevi un poster solo in camera o avevi la camera tappezzata? No, avevo, no. Io, allora, noi vivevamo in una casa allora che le camerette... Cioè, c'era la camera dove andavo io e c'era il mio letto, ma non era che io potrei... Non era il tuo regno? Sì. No, no, non c'era il mio regno. Quindi era un posterino? Sì, è un posterino. Quanto grande quanto? Ma era un posterino da Gazzetta dello Sport. Ok, se no, non le gigantografie che adesso hanno i ragazzini adesso. Assolutamente, non esisteva. Allora, adesso rilassati molto perché ti faccio una domanda che ci piace fare soprattutto alle donne, però io voglio farla anche agli uomini. Se tu ti piaci fisicamente come sei e se cambieresti qualcosa del tuo corpo? Beh, a 59 anni sicuramente cambierei un sacco di cose. Eh, no, scegliene una però. Cioè, la cosa che ti piace meno è la cosa che ti piace di più del tuo corpo? Allora, guarda, io cambierei, se potessi, toglierei un po' di questa cosa che... Fala vedere. ... alla mia età non va più giù, nonostante tu non mangi e tutto il resto. Perché il metabolismo ai me si rallenta e questo lo sappiamo. Non cambierei mai, qualcuno me lo dice, il sorriso, ecco, questa cosa qui, quella mi piace. Il sorriso non lo cambieresti? No. Mentre la pancetta sì? Beh, insomma, in vera e quattro... Ma andresti a un chirurgo plastico a fartela cambiare? No, non ce la farei. Cioè, se adesso ti presento un chirurgo plastico che ti dice, signor Boni, io le faccio un'operazione gratis e le tolgo un po' di pancetta, la fai? Ma guarda, io sono anche narcisista, però penso che la fregatura sarebbe che una volta fatta l'operazione mi scatenerei su altre parti, perché io mi tengo fermo a tavola. Ah, dopo dici correggiamo altre parti. Cioè, vabbè, vabbè, no, non mi è entrata, non ci ho mai pensato, devo dirti la verità. Allora, va bene, l'ultima domanda per questa prima parte, se hai un sogno ricorrente. Sì. Ah, sdraiati, adesso si alza. Ma non è perché non è di quelli simpatici. Ah, è un incubo? Sì, di solito sì. Cioè? E sembra strano, però alle volte corro perché sto cercando qualcosa, ma che riguarda, sento che nel mio sogno c'è mezzo la mia famiglia e tutto il resto, e non arrivo mai in tempo. E loro sono in pericolo. Sì, e c'è qualcosa che non funziona, hai capito? E ti svegli prima di arrivare. Eh, mi sveglio prima, ma mi sveglio col fatto di essere impotente rispetto a questa cosa, perché arrivo... Eh, allora, certo, ti svegli male. Sì, ma perché sono attenzionato tutto quello che faccio durante la giornata. Mettiti, copriti con i cuscini come se fosse una copertina. Ecco, adesso aspetto la flebo, la pastina della scuola. Allora, ci fermiamo, non addormentarti, c'è un po' di pubblicità, poi andiamo avanti con domande ancora più personali a Davide Boni, a tra poco con gli sdraiati. Rieccoci, rieccoci con gli sdraiati, il nostro nuovo programma con l'ospite sdraiato sul divano, che è Davide Boni. Non ti sei addormentato durante la pubblicità? Ho fatto un mezzo pisolo. Vabbè, è troppo poco, ti addormenti velocemente. Allora, senti, abbiamo indagato un po' sul Davide Boni uomo, adesso andiamo avanti perché ti faccio una domanda un po' più imbarazzante. Hai mai fatto una figura di M grossa? Sì. Sì, più di una? Io sono, ogni tanto sono uso... Siamo in fascia protetta, quindi figura di M, si capisce? No, 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 sì, sì, ma ne sono uso a fare queste cose. Dimene una. Io sono capitato all'interno di una riunione dove c'erano 40 persone sedute da giovanissimo istituzionale, presidente della provincia, con il presidente della Camera del Commercio e il sindaco, la prima volta sono arrivato in Bermuda. Ma perché? Perché faceva caldo, magliette... E non ti sei reso conto? Io non mi sono... Cioè, mi sono reso conto che andava un incontro istituzionale e quando ho aperto la porta e tutti erano in giacca e cravatta, sono... E cosa hai fatto? Niente, perché c'era un presidente democristiano che mi ha preso... Quanti anni avevi? 31, cioè... E però ha 31 anni, non è che sei proprio un bimbo, eh? Però era un bimbetto della politica. Ho detto, presidente, si accomodi qua. E mi ha rincuorato lui. E dovevamo preparare la foto dei Bermuda a saperlo. È una figura terrificante. Senti, invece, un errore che ti riconosci nel tuo modo di fare o nel... Insomma, un tuo difetto, qualcosa che secondo te tu sbagli, hai sbagliato e non hai corretto finora, insomma. Ma allora, che non è mai corretto, come ti ho detto, si riparte dall'inizio. Io non riesco a dire no. E no, però è un errore questo. Tante volte sì, perché tu non valuti le persone, vai sul... Cioè non sono neanche un istintivo, cioè a pelle, riesco a farmi ingabolare in situazioni che poi difficilmente, perché poi alla lunga si risolvono con situazioni che sono e pericolose, tra virgolette, non lo dimentico mai, e... E allora devi correggerla questa cosa. A 59 anni non ce la fai più. Eh ma adesso siamo ancora in tempo, sei, io sono più giovane. Sono proprio nobe, ma non dico che sia vecchio, però quando la pianta è così, io continuerò a prendere ogni tanto delle cantonate su delle persone. Ok, eh sì, sulle persone, soprattutto quello. Senti, abbiamo parlato del poster di quando eri piccolo, adesso il cartone animato di quando eri piccolo o di quando eri ragazzino, insomma, tutti quanti abbiamo il cartone animato del cuore, anche tu devi averlo. Io sono dell'età di Goldrake, cioè delle alabate. Actarus. Sì, di quelle cose. Oh, Goldrake. Oh... Eccolo. Questo qui era... Cioè... Ma sai che anch'io mi emoziona sentire questa canzone? Cioè, quando tu senti questa roba qui, poi ne ho visti, ho visto anche Dighton 3 e tutta roba, sono arrivati un po' dopo. Questo è stato il primo. Sì. Cioè, io avevo questo qua e avevo tra virgolette Happy Days. Cioè, tu... E l'hanno messi. Eh sì. Avevi quella roba lì. Adesso c'è troppa roba. Sì. Senti, domanda proibita e vietata ai 18 anni. Ti sei mai fatto una canna? No. Fumare sigarette? Fumare sigarette sì, io sono un fumatore, questo mi frega. Però canne mai? Ma la canne mai? Neanche quando eri ragazzino? No, no. Una volta sola? No, non ci sono... Ti faccio una confessione. Sì, fammela. Ho avuto... Una volta... Ho tirato. Ah. Sì. Ma proprio a militare. È stata una... Ti hanno trascinato? Sì, è stata una stupidata. Insomma, il mio rapporto con la droga è sempre stato molto... Anche perché io sono della... Di quell'età che avevo tanti amici che si bucavano e tutto il resto. Che cosa vuoi dire? Una canna mai. Perché a me, per uno che si faceva la canna, era tra virgolette un drogato. E quindi... Poi col tempo ho vissuto... Cioè, l'ho visto in un... Sei contro a favore della liberalizzazione delle droghe leggere? Guarda, io sono per... Devo dirti che la gente ha la testa per fare delle scelte. Quindi le liberalizzeresti? Sì. Ok. Non credo che sia quello il problema importante di questo problema. Ok. Senti, che cosa ti fa paura? Cioè, per che cosa Davide Boni ha paura? Stai bello rilassato? Ma io sono rilassato. Mi sembra di fare lo psicoanalista. No, ma in effetti è questa cosa qui. Sai, il diventare... Non so, le malattie, la morte, l'abbandono... Tante cose fanno paura, no? Non ti dico la vecchiaia, però il tempo che passa, no? Il tempo che passa. Oggi poi ti confronti con quelli che vedi, uno può rimanere solo. Ma di più la solitudine, di più le malattie, di più il tempo che passa? La cosa principale... Il tempo che passa, perché tu sei soddisfatto di tutto quello che hai fatto. Ma io penso che l'animo umano vorresti sempre ricominciare qualcosa. Magari cambiare qualcosa. Quindi avere rimpianti, hai paura di avere rimpianti, avere rimorsi? Sì, più che... Rimpianti e rimorsi. Ok. Senti, il posto dove ti piacerebbe vivere? Sogniamo un po'. Se no, adesso... Vabbè, adesso tu magari mi dici Milano, non lo so, però... C'è un altro posto dove ti piacerebbe vivere o Milano? Milano è l'assento nel sangue. Ok? Mettiamola così. Soprattutto la nuova Milano, questa qua? Ma a me piace tutto. A me di Milano mi piace tutto. Mi piace anche, non se ne vogliono... Quartogiaro, Lorenteggio, Lambrato... Mi piace, mi piace. Mi piace Milano e la sua milanesità, anche se non sono tutti milanesi pure. Ti sdrai un po' di più? Eh, tesoro, se mi sdrai un po' di più, Adriana... Cioè, mi portate via... No, perché dopo dopo c'è lo sportivo, eh. Dopo di noi c'è lo sportivo, quindi il divano deve essere liberato. Allora, se io dovessi dire cambio, vado via... Eh? Con i 10 milioni... Con i 8 milioni che sono rimasti. Allora sì, vado a Lavana e faccio... E Minguè scrivo un altro vecchio al mare. Ok. O sennò vado sulla Sierra Maestra e aspetto che ritorni... Però senza i 9 milioni stai bene a Milano. Sì, stai bene. Ok. Va bene. Parliamo adesso di cibi, bevande, eccetera. Il cocktail preferito? Se andiamo, se mi porti a bere un aperitivo, tu cosa bevi? Allora, se io posso, bevo un muhito. Ah. Lo spritz, sì, però... Lo spritz, sai, ormai non lo intendo più come un aperitivo. Perché tu vai al bar e dici, cosa prende uno spritz? Lo prendono tutti. Lo prendono tutti. No, a me piace il muhito, mi piace il Daiquiri. Cioè, vedi da dove... Però il muhito mi fa impazzire. Il muhito è buonissimo. Sì. Anche secondo... Ma lo sai fare? Io no. Non fai cocktail in casa? No, io lo bevo. Sai come si chiama? Lo shaker. Ma poi tu vieni nel mio frigor, c'è l'aperol, c'è... Però non ti metti a farli tu. Assolutamente. Sono troppo pigro. Parliamo di cibo, invece. Sì. Allora, il piatto preferito di Davide Boni. Beh, vedi, qui c'è una parte di origine mantovana per cui sono i tortelli con la zucca. Però non col burro e la salvia. Io li voglio con la salsiccia e il formaggio. Con la salsiccia e il formaggio. Mamma mia, una roba leggera. Poi ti lamenti che hai la pancetta. Ho capito. Ma io lì ti però ti sfido. E chiamiamo quello sportivo. Io so quella roba lì. Gli faccio fuori tre piatti a tavola, eh. Cioè per me Natale la fregatura è questa. Perché Natale, il giorno di Natale tutto il resto a Mantua, tu hai questo prodotto qui che a me piace tantissimo. Ok. E invece il cibo che ti disgusta. Sceglimi dei piatti o anche delle bevande, visto che parlavamo dei drink, di qualcosa che ti disgusta. Che poi dici mai, pensa, io ti invito a cena a casa mia e ti trovi un piatto di... Allora, di cetrioli. Che ti fa schifo proprio. Diciamolo che fa schifo. I cetrioli. Cioè se tu tagli i cetrioli. Sì. E metti un piatto di cetrioli, un insalato di cetrioli a tavola è la volta buona che io mi alzo. Cioè mia moglie li mangia di nascosto. Ma perché anche vederli ti danno il disgusto. E' come un odore, tra virgolette, muto. Non so come dirtelo. Tu lo respi e dici, madonna, cioè, oddio mio, non riesco. Ok, cetrioli schifo. Un altro? No, non ci sono. Un piatto preparato. Guarda, i piatti preparati ormai è un'età che non li scelgo, cioè scelgo quello che voglio io. No, no, però ripeto, ti capiterà che qualcuno ti... Ecco, il riso rosso. Il riso al pomodoro. Sì. Cioè io il riso lo mangio tutte le mangiate. Ma il pomodoro ti fa schifo. Al pomodoro? Possiamo dirlo, fa schifo. Sì, io non riesco a mangiarlo. Va bene. Adesso andiamo indietro. Andiamo indietro. Quando eri bimbo, la merendina. Perché adesso c'è la salutarità e allora bisogna dare il pane con la marmellata. Ma quando eravamo ragazzini noi mangiavamo le merendine. Sì. E tu cosa mangiavi? Io mangiavo gli urrasaiva. Noi ce li abbiamo. Eccoli, gli urrasaiva. Sì, per me era il sogno. Il sogno. Cioè a me il wafer piace. Poi inserito il cioccolato così è una bomba calorica. Però mi piaceva tanto. Cioè ancora adesso se li trovi in giro. Ma ecco perché poi queste merendine alla fine poi scompaiono, no? Sì, ritornano sotto altre vesti. Beh, ci sono i wafer. Sì, ci sono i wafer. Sono wafer ricoperti di cioccolato. Qualcosa che gira. Adesso non ricordo di che marca. Poi quando ero estate invece mio padre mi portava tutte le sere a mangiare il camillino. Che era un biscotto di gelato proprio il biscotto. Che si chiamava camillino perché la confezione era di cocco bill di Jacoby. Io non me lo ricordo il camillino. Pensa quanto sono vecchio io. Adesso io sono un po' più giovane. Però il camillino non me lo ricordo. Il camillino. Se ce lo dicevi lo preparavamo. Eh, va bene. Adesso lasciamo il cibo e invece ti faccio due domande importanti. Se tu potessi con una bacchetta magica risolvere un problema grosso che affligge l'umanità. Ma in questo momento... In questo momento è una domanda facile forse. Adesso, ma non ti parlo di covid e tutto il resto. Io penso... Veder la tua immagine estraiata comunque mi è arricchioso. È un qualcosa sull'ambiente. Cioè io quello che penso poi sono i giovani, no? Perché uno... Io la mia età l'ho fatta. Mi rendo conto parlando con mio figlio che loro questo problema lo sentono. Io ho cambiato anche abitudine a casa. Ecco, quindi tu proteggeresti l'ambiente. Sì, perché mio figlio... Dimmi un'abitudine che hai cambiato a casa. Allora, ti dico una stupidata. Ehm... Mentre prima prendevamo le bottiglie di acqua e tutto il resto... Adesso usiamo... Di plastica? Sì, brava. Usiamo i filtri e mettiamo... Anch'io? Nella britta? No, non si può far pulire. Ce ne sono anche altre. Benissimo. Le scatolette di tonno... Sì. Filtri... Cioè mio figlio mi fa filtrare... Ah. Che io ricordo mia nonna che l'olio lo metteva in frigorio perché lo usava ancora. Per riciclarlo. Bravissimo. Cioè ci sono tanti accorgimenti. No, ma l'acqua sono d'accordo. Ormai ci sono le... Abbiamo... I filtri e comprare tutta quella plastica. Sì. Ci scriveranno i produttori di acqua. Vabbè. Questa qui è un po' la cosa. L'ultima domanda di questa seconda parte. Quando sei a casa che non lavori, che non fai politica, a parte stare sul divano, cosa ti piace fare? Io guardo tantissimo... Cioè mi piacciono i film. Tipo? Ma io guardo tutto. Cioè certo è che non sono quello del film romantico o tutto il resto perché... Ma guardi Netflix, Prime, Infinity, Sky. Ho cercato di corrompere la mia consorte per Sky. Mi ha detto... No, abbiamo già... Abbiamo già Netflix. E poi ho più di mille DVD in casa. Ah beh. Allora quindi i riguardi anche già visto. Sì. Io sono uno che lo guarda, riguarda, lo guarda, riguarda. Ma anche roba di... Adesso mio figlio vuole vedere un americano a Roma. Io ho la marcia su Roma. Cioè ho tutte quelle cose di Tognazzi, di Gasma. Mi piace troppo. E di Sordi. Va bene. Quindi film, film. Sì, film. Va bene, va bene. Ci fermiamo dopo l'ultima parte con Davide Boni. Altre domande ancora per andare più a fondo. Lo facciamo sdraiare ancora di più. Non ti addormentare. Adesso proviamo. Pochissimi istanti di pubblicità tra poco. Rieccoci, rieccoci. Allora ancora con Davide Boni sempre più sdraiato sul nostro divano. Stai bene però. Sì, mi manca solo inghe e otto. E i gatti, è vero, io e i gatti. Sì, dobbiamo aggiungere magari un drink sul divano. Però dopo se vi cade e mi macchiate il divano, poi mondo fa lei che si incavola. Anche perché io sono facile. Sono facile a far cadere le cose. A far cadere le cose. Va bene. Allora, ci siamo lasciati con cosa preferisci fare a casa. Hai parlato di guardare film su grandi aziende come Netflix, Netflix Prime, eccetera. Allora invece il tuo sport preferito? Da guardare il calcio? Tutte e due, da guardare e da praticare. Non riesco più a muovere. Allora vado a camminare, mettila così. Non riesco più a fare cose. Quindi il tuo sport è quasi niente. Quasi niente. E da guardare? Il calcio. Anche se guardo ogni tanto il basket e la pallavolo. Però il calcio è il tuo preferito? Il calcio, sì. Hai già detto che sei un grande tifoso del Milan. Sì. E attualmente il tuo giocatore preferito del Milan? Cioè, Ibrahimovic. Anche se gioca poco. Vabbè, ma però è… È un simbolo. È un simbolo. Era un po' come Maldini e come altri prima. Ecco, Ibrahimovic a me piace perché poi… Io lo chiamo l'omone. L'omone mi piace… Anche come persona? Sì. Aveva fatto lo spot per il Covid, ad esempio, no? Poi perché è uno che si è fatto da solo, mettiamola così. Beh, lui ha la fortuna di essere… Di essere un uomo strutturato in quella maniera, di avere il dono di giocare a calcio. Però mi piace la sua… Come prima mi piaceva Gattuso. A me piacciono quei giocatori lì. Eh, però quando eri piccolo il tuo campione preferito ti è… Allora era Baresi. Era Baresi. Non Rivera, è Baresi. Eh, esatto. Come mai Baresi non Rivera? Era un po' un giocatorino. Cioè, con tutto rispetto che se mi ascolta Gianni Rivera… No. Perché lui è stato una bandiera del Milan. Però aveva la gente che correva per lui. A me piacciono quelli che corrono, hai capito? Quelli che combattono sul campo. Ok. E Baresi era… E Rivera aveva tutti intorno che lavoravano per lui, no? Sì, era un'altra cosa. Come Cristiano Ronaldo, sono questi così. Sì, sì. Ecco, io per quello che mi piace… Vedi che ormai ho imparato anche io roba di calcio. Non avevo dubbio. Quindi… Quindi tu stai dicendo… Baresi, quando eri ragazzino, adesso Ibra. Sì. Collegati dalla maglia del Milan. Vedi che sono vestita di rosso nero per te io. Tu sei stato… Guarda, l'ho notato subito. Va bene. Ok. Senti, invece il tuo sogno più grande? Sì, ma è brutto dirlo. No, però… Sei sdraiato. A me non dispiacerebbe come persona diventare nonno. Ah, bello questo. Sì, perché questo accontenterebbe anche molto mia moglie. Beh, ma succederà, spero. Sì, ma spero. Avendo due figli… D'altra parte, se il mio personale… Qui cado però nella natura… Cioè, dei maschi e della mia età… Non mi dispiacerebbe averla in Harley Davidson. Ah, no, questa è bellissima. Sì, ma è quella roba. Diventare nonno, con tutto il rispetto, è una cosa più… È più, come posso dire, più diffusa, no? Sì. Il problema è che a Milano costa di più parcheggiarla. Ah, certo. Perché non hai un box. Eh, no. E senza box è un po' complicato. Sì, ma proprio, sai, è quella cosa da vecchio, da quasi sessantenne… E va in giro… Un po' piano, senza fare… Senza esagerare… Un po'… George Clooney, no? Uno poi sogna sempre con le cose lì, però mi rendo conto che… Diventerei anche… Tua moglie sarebbe d'accordo o avrebbe paura? No, non avrebbe paura. E per la spesa, ti direbbe? No, mi cela col fatto di… Cioè, ti dice a 59 anni, Harley Davidson? Ma dove vai? Ma dai, compra magari una… Compra la macchina per i ragazzi. Ah, certo. Giustamente. Senti, delle squadre di calcio abbiamo parlato. Quindi Milan sempre, anche quando eri bambino. Sì, sì. Non ho ricordi. Mio padre mi dice che quando ero piccolissimo tenevo la Fiorentina. Ma io non ho questo ricordo, proprio zero. Ma c'è anche… Sì, Milan… La Fiorentina, dice il papà. Ma mio padre dice questo, però non ho questo ricordo io. Cioè, quanto avevi un anno. Ma da molto brevemente, non lo so. Ah, la Fiorentina è pazzesco. Però Milan ha tutto tondo. Senti, secondo te esistono gli alieni? È sdraiato o sdraiato? Io credo di sì che non siamo… Cioè, di non essere… Che non siamo l'unica forma di vita in questo universo. Magari c'è qualche altra cosa, però… diffido di quelli che mi dicono. L'ultimo che mi ha detto una cosa così è stato il generale Pappalardo. Da allora non l'ho mai più voluto vedere. No, quindi tu dici… È una questione di probabilità. È probabile che ci siano. È probabile che ci siano. Ma non come… Magari sono una forma di vita diversa. O più è voluta o meno è voluta. Ma sono stati visti? Cioè, tra tutte le persone sulla terra che dicono averli visti, secondo te inventano o qualcuno li ha visti sul serio? Tanto sei sdraiato, puoi dirlo. C'è gente che dice che ha visto la Madonna e poi non lo so. Io non mi esprimo perché magari vado fuori e incontro qualcuno che li ha visti davvero… Non lo sai? Non lo so. Non lo sai, ok. Senti, quando andavi a scuola la tua materia preferita qual'era? Storia. Ecco perché sei contento che tuo figlio studi storia all'università. Sì, storia per me era qualcosa… Qual'epoca storica ti piaceva di più? Ma tu mi hai detto da… A me l'impero romano mi fa impazzire. L'impero romano ti fa impazzire? Sì, ma tutto perché poi mi piacciono gli eserciti, le organizzazioni militari perché era una macchina perfetta. È brutto a dirlo però… E per quello anche ti piaceva forse la carriera militare, tutto collegato. Sì, sai perché uno… Quindi le battaglie dell'impero romano o la battaglia dei romani con i Galli ti piacevano queste cose qua? Io ero l'unico che teneva dall'altra parte… Tu tenevi ai più deboli? No, quando militavo in altri partiti non riuscivo a tenere per Vincingettori. Tenevo per Giulio Cesare che è un po' è… Ah, ok. Perché era questa cosa qui, no? Però sai com'è? Va bene. Mi è sempre piaciuto. Veniamo all'oggi adesso. Hai un cellulare tu? Sì. Lo usi tanto? Parecchio perché lo uso anche per lavoro. Ok. E che cellulare hai? Io… Si può dire… Ma sì, diciamo. Un iPhone. Ok. E lo usi non solo come cellulare, lo usi come tutto? Anche come computerino, come macchina fotografica? Sì, macchina fotografica soprattutto. Ok. Ecco, tu sai stare senza cellulare? Questa è una cosa che mi incuriosisce. Dovrei trovare… Io ti dico, io quando sono senza mi sento che mi manca un pezzo. No, ormai… Anche tu? Sì. Anche perché io ho avuto… Nel 93 ero uno dei primi eletti. Ed era il momento in cui uscivano i cellulari. Per cui nella figura istituzionale che… Sono stato adottato immediatamente. E quindi subito hai… Avevo quello che… Che sembrava quello il duplo. Sì, ci volevi portare dietro la macchina per metterlo su. Eh beh, va bene. Però mi aro… Cioè ti rovina la vita. Ti rovina la vita. Sì. Senti, cosa bisogna avere nella vita? Spirito di sacrificio. Vabbè, è una dose di fortuna che deve arrivare. Però io… Ah, spirito di sacrificio è molto interessante. Sì, ma tu non fai niente se non sei disposto a sacrificarti. Io le botte di lato B mi saranno anche capitate. Però hai avuto anche le botte di lato A. Sì, devi anche… Devi costruirti. Cioè devi sapere… Devi essere pronto. E saper incassare anche? È naturale. Quello non c'entra affare. Saper incassare, ok. Impari sempre. Quindi bisogna avere dose di sacrificio, anche un po' di fortuna. E cosa non bisogna avere nella vita? Solo una bella faccia. Solo… Non bisogna avere la capacità di adattare. Cioè non di adattarsi. Capiscimi. Non puoi adattarti sempre a tutto. Mh. Perché se ti adatti a tutto vuol dire che… Non hai personalità. No, ce ne sono centomila come te, no? Ma… Io sono Bonnie Davide. Qui prendiamo Pirandello in full Mattia Pascal. Cioè… E ti par poco. Ma sono io. Cioè non sono la fotocopia di un altro. No, giusto. Quindi non bisogna cedere sempre. E allora non bisogna dire troppi sì. Eh, ho capito. Ma quella roba lì… C'era un film di John Carrey… Ci devi crescere su questo. Eh, lui era stato ipotizzato. Quella è una fregatura, no? Senti, le ultime due domande. Una al passato e una al futuro. Il primo voto politico che hai dato? All'MSI. Mamma mia! Ecco io… Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Da te non me lo sarei mai aspettata! Mamma mia! Ma guarda che io sono un feltrinelli. Io ho fatto i servizi d'ordine con il fronte… Con la Federazione Giovanni del Comunista. Avevo il mio baschetto nero con la mia stella rossa. Ma a quell'età lì, dai 14, 15, 16, 17, 18 anni, tu vari in tutte le posizioni, no? Eh, però quella lì è una bella posizione bella forte. Eh, quella è una posizione che mi ha costata anche tanto. Eh, immagino. Ti hanno anche un po' isolato probabilmente. Eh, ma sì… E poi quando è che hai cambiato? Poi c'è stato un… il fermo, ho fatto il militare e tutto il resto. Poi una sera, guardando la TV, ho visto Umberto Bossi e sono rimasto… Innamorato. …sulla via di Damasco. Quindi è Bossi che ti ha spostato dalla MSI e poi… No, molto bene, era un senso di rivolta. In quel momento la MSI era l'antisistema. Ah, ok. E poi è diventata la Lega l'antisistema e quindi ti sei. Poi adesso non parliamo del… No. …della svolta politica di Boni, l'abbiamo fatto altre volte. L'ultima domanda rivolta al futuro. Come ti immagini tra vent'anni? Come adesso, io spero. Come adesso, cioè non riesco a… Come adesso, come adesso con tanti nipoti, tante nipoti, tante cose, con la gente… Cioè… Che qualcuno si ricordi… Non voglio la via, eh, attenzione. Ah, ma… E anche l'ha stato questa. Ma diciamo… Qua… Ma quel Boni Davide là, che fine ha fatto? È ciombia. Alga 97 anni adesso, dove vuoi che sia. È là che beve… No, beh, tra venti non ne hai 97. Eh, adesso ne ho 79. Eh, beh, non può meno. Cioè, io non stabilirò mai il record dei 100 metri dei 79 anni. Ok, ok. Questo sì. Però, insomma, così come adesso, ma che qualcuno si ricordi di te. Beh, sì. Ok. Che ogni tanto bussi caso o venga a portarmi la gazzetta allo sport. Va bene. Ti sei rilassato? Hai voglia? Io fra un po' d'oro… No, perché sul divano, dopo di lui, si siede un altro… Beh, ma questo qui… Che è un calciofilo. Non vi dico chi è, perché così creiamo il pathos, giusto? Giusto. Giusto. Quindi, intanto ringrazio Davide Boni. Grazie a voi. Restate sugli sdraiati. Dopo la pubblicità, un altro sdraiato sul divano. E un altro al mio posto che gli farà le domande. A tra poco. A tra poco. A tra poco. A tra poco.